ciao benvenuti in un nuovo video allora oggi vi voglio parlare di un marchio per la skin care che è questo e in key list questo qui ma adesso vi mostro i pelottinelli specifico perché mi avevano mandato tempo fa questo set poi mi hanno mandato anche tempo dopo la maschera e allora ho voluto un attimo spaziare e provare più o meno gran parte dei prodotti che mi potevano interessare o che erano adatto al mio tipo di pelle e ho voluto comprare io questa crema con tornocchi per provare alcuni prodotti e per avere un'idea più o meno di come si comportano allora the in key list è un marchio che si trova da sephora ed è anche su look fantastic ho visto è caratterizzato da questo pecc si vede soprattutto in questo da questo pecc molto minimale ma elegante tutto bianco e nero e basta e oltretutto ha un prezzo accessibile per un prodotto da con un inci valido non perfetto non perfetto ma valido perché comunque sia non ha parabeni non ha fragranze non è testato sugli animali come ogni prodotto sinceramente in unione europea ma neanche le singoli componenti lo sono e oltretutto non ha siliconi ed è parabeni che sappiamo tutti che i siliconi che ci sono nei prodotti cosmetici in europa sono testati sicuri passati hanno fatto tanti test ed sono super approvati però è giusto sapere o meno se stiamo mettendo sul viso dei siliconi o meno poi sono tutti sicuri nessuno dice contrario però voglio sapere se un prodotto che applico tutti i giorni più volte al giorno magari per più tempo più tutta settimana tutto il mese voglio sapere se li contiene o meno allora inizierei parlandovi delle set primario che mi avevano inviato che contiene due prodotti ed è vi parlo subito di questo è un set che dice te plump and go ma il primo prodotto che vi mostro anche perché mi ha super incuriosito è questo contorno occhi caffeine questo qui allora ha un applicatore fatto così vedete comunque la clip della texture io vi dico il prezzo 15 ml quindi il full size questo è un full size 15 ml viene 10 euro e 50 e inci è buono è buono allora quando ho visto che è un caffeine quindi un prodotto per il contorno occhi a base di caffeina ho detto deve essere da provare assolutamente deve essere mio da provare perché caffeina quindi va a ridurre il gonfiore delle borse degli occhiaie va a stimolare il microcircolo va a quindi ad donare un effetto più di più fresco al viso soprattutto se come me avete tante borse e occhiaie dunque a una texture come dire leggera ha una texture leggera che si picchietta sul contorno occhi assorbe velocemente va bene sia di sera che di giorno prima del make up quindi non crea nessun tipo di problema perché è leggero e assorbe velocemente mi aspettavo un effetto maggiore questo è blando sicuramente aiuta però mi aspettavo un effetto maggiore e invece è un buon contorno occhi ma niente di più ha detto caffeina contiene caffeina deve essere wow effettivamente credo che sarebbe stato meglio su un roll applicatore perché l'effetto caffeina con l'effetto fresco credo che sarebbe stato wow ma comunque sia funziona funziona ha un effetto blando ma ce l'ha ad esempio in estate quando le mie occhiaie sono meno visibili forse anche perché mi abbronzo quindi sono un po più sgonfie le occhiaie e poi con l'incarnato più colorito si vedono meno ed è vedo la differenza grazie a questo basta applicandolo poi un po di abbronzatura occhiaie meno gonfie mascara e sono a posto non devo stare lì cinque volte con i correttori tutti i correttori dell'inverno e quindi sì andiamo avanti con un altro prodotto questo anzi no aspettate dato che vi ho parlato di caffeine e tutto un crescendo vi parlo adesso di questo contorno occhi che invece l'ho comprato io perché è il brightening eye cream adesso ve lo mostro perché visto che prima avevo detto che sarebbe stato meglio un prodotto con il roll sono andata a prendere questo prodotto perché ha l'applicatore in acciaio che ho detto sicuramente deve essere più più efficace allora questo è lei cream instanti e in illumina e istantaneamente e dici di avere e vitamina c molecole che si attivano ed illuminando incarnato sto traducendo la confezione è un 15 ml classica illumina effetto blu quindi e nasconde in apparenza le linee delle degli contorno occhi e idratante ok allora il prodotto è questo magari se ve lo giro lo sciroggio avevo nel senso giusto bene allora 15 ml questo qui il classico 10 euro e 90 mi sembra un prezzo onesto e quindi ho voluto provarlo non vi dico la profumazione perché infatti non ce l'ha sono proprio anche senza profumazione dunque contorno occhi che dice di essere illuminante effetto blur e idratante idratante sì basta cioè io pensavo che questo super applicatore tutto in acciaio da cui esce il prodotto ed fosse effettivamente molto fresco ed sgonfiasse magari darsi qualche azione col fatto della vitamina c che avesse un effetto illuminante il prodotto no diciamo che ha una texture che è leggera e assorbe velocemente e poi applicato con questo ed è applicatore in acciaio sgonfia immediatamente quindi tanto fa l'applicatore piuttosto che il prodotto il prodotto è idratante anche se è di texture leggera che assorbe velocemente va bene di giorno e di sera anche sotto il make up non crea problemi ma mi aspettavo molto di più però questo applicatore è una manna soprattutto applicato all'applicatore che lo applichi sì alla mattina e sgonfia subito le borse le occhiaie quelle dovute ai ristani è una manna ma noi adesso andiamo avanti e adesso vi parlo dell'altro prodotto che era contenuto nel in questo kit questo è lì c'è lo step 1 ok ma lo leggiamo da qua sopra è il collagen booster un siero viso al collagene vegetale allora la confezione grande è un 30 ml e viene 9 euro e 90 vedete dalla clip che il collagene il collagene qualunque siero al collagene o tonico al collagene c'è anche collagene ma questo credo che sia collagene si è un po' appiccicoso applicato sul viso quindi vi consiglio di applicarlo alla sera bastano si apre così si stende bastano poche gocce io lo applico con le mani perché così lo faccio ed è assorbire bene lo tampono bene e lo uso come tonico alla fine della della detersione faccio mi strucco faccio la doppia detersione e poi lo applico questo al posto di tonico è bello rimpolpante ed è ha questo effetto un pochino appiccicoso ma assorbe immediatamente cioè si sente davvero per poco e poi dopo faccio la mia skin care completa con il contorno occhi la crema notte e poi vado a letto basta non è non mi crea problemi neanche con la pelle mista ed è non ne appesantisce davvero valido soprattutto nel periodo invernale questo funziona davvero valido e poi non è che rimpolpa ma aiuta rimpolpare aiuta da una grande mano e quindi perché no però io non mi ricordo se ve l'ho mostrato e ora veniamo all'ultimo prodotto che è questo che mi hanno mandato poco fa quindi li ho finiti tutti ho finito testare tutti e poi vi ho fatto il video questo è uscito da poco perché me l'hanno mandato ed è poco fa adesso ve ne parlo che è meglio ed eccola qua questa è la caolin clay maschera quindi una maschera a viso al caolino argilla purificante per tutti i tipi di pelle dice di essere formulato per tutti i tipi di pelle effettivamente best of quindi perfetto per la pelle ed è oil skin pelle grassa aiuta ad anche e ho stato alluciato all'inglese aiuta a minimizzare i pori allora il prodotto è questo qui cosa che ho notato a differenza degli altri questo ha anche le istruzioni all'interno stampate quindi non c'è neanche il foglietto illustrativo ancora meglio allora dunque eccola qua sono 50 ml quindi tutta la confezione sì 50 ml 5 euro e 90 stavo guardando perché in fondo non mi non accorta dice i vari trattamenti questo è un trattamento e va bene sia di giorno che di sera perché non è fotosensibilizzante sembra una cavolata ma è bene scriverlo sui prodotti comunque questa che vi ho fatto la clip è una maschera per il viso adatta alla pelle mista grassa con la argilla ed è mi piaciuta perché ha un tempo di posa di 10 minuti allora le maschere d'argilla non vanno mai fatte seccare completamente sul viso se no non si rimuovono più e vanno a irritare troppo questa 10 minuti io l'applico e l'applico a sera una volta che sono struccata applico questa maschera poi nel mentre finisco di lavarmi mi lavi i denti le faccio tutto sono passati 10 minuti e le vado a rimuovere con quei pannetti in microfibra si rimuove bene e cosa che mi è piaciuta tanto è lascia la pelle ed è davvero purificata morbida questo è il prodotto ma vi ho fatto anche la clip è bello cioè la lascia la pelle senti proprio la sensazione di pulito non purificata senti la sensazione di pulito che ha tolto l'olio dal viso molto molto valida soprattutto considerate che viene 5 euro e 90 come tutti gli altri prodotti che poi non ve l'ho più detto ma comunque nel bioedizionario ha 4 stelline su 5 non vuole dire niente ma è un'indicazione perché comunque nessuno ha derivati del petrolio nessuno ce li ha dentro e a me questa è piace se dovessi decidere di acquistare un prodotto questa la maschera questa l'argilla è davvero un portento per il prezzo che ha è davvero un portento io la applico sulla zona T e sul mento ma nel caso non va a ritare la pelle non ve la va a rossare non stressa dopo si applico sempre la crema idratante perché la uso la sera ma comunque non ha mai creato problemi e questo era l'ultimo prodotto tra quelli che ho provato fatemi sapere se conoscevate questo marchio se avete provato qualcuno di questi prodotti e sono curioso di sapere anche le vostre recensioni oppure se vi ho incuriosito e visto il prezzo accessibile siete incuriositi da trovarne qualcuno io spero di essere utile e vi do appuntamento al prossimo video ciao ehi sono qui ciao ti sei ricordato di mettere un commentino mi raccomando mettilo qui sotto e ricordi di essere iscritto al mio canale solo così potrai ricevere un regalino da me lo sai che estraggo ogni mese ciao